Dopo il primo incontro a Novara, venerdì 27 gennaio, è proseguito a Torino nell'aula di Palazzo Lascaris il percorso di formazione intitolato Protagoniste nei governi locali, promosso da Consiglio regionale dalla Consulta delle Lette del Piemonte, preseduta dalla consigliera Giuliana Manica. Il corso è articolato in quattro lezioni dedicate rispettivamente alla cittadinanza attiva delle donne nel percorso dell'Unità d'Italia, al funzionamento degli enti locali, al federalismo fiscale e alle politiche europee. Alla lezione tenuta dalla professoressa Elisabetta Palici di Suni erano presenti anche le consigliere Rosa Anna Costa e Gianna Pentenero. Alla lezione tenuta dalla professoressa Elisabetta Palici di Suni.